Perchè? 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 Che cazzo sto combinando? 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 Ma scusa dov'è che devo andare? Ah già giusto perché quella mi dava il pezzo giusto. Non lascia stare questo qui e ti stunna. Anzi ti silenzia. Madonna che nervoso. Bravo. Sono tutti sti fantasmi. Urco due. Che bello. Una bella fagiolata qua. Bisogna andare a ranzarli tutti. Anzi anche una bella orbetta. Che uno per uno li secco via. Ustia. Ma che belli. Che esseri felici. Che esseri felici. Ustia chi è sto orco? Ah. Questo è Morak Chilwish. Hmm. Beato fra i morti. Questi individui così macabri. Hmm. Che palle. Allora. Vai. Questi individui lugubri. Minchia. Ste orbi qua cosa saranno? Ancora. Ma basta. Tu e i tuoi individui lugubri. Si però non serviva un cazzo pertanto non avevo la quest. Oh che deficiente. Questi insettoidi. Andiamo a zanzare questi insettoidi. Magari se riuscissi anche a dargli qualche colpettino. Perfettino questo insettoide. Non sarebbe male. Allora. Ancora no basta eh. Ah un fiorellino eh. E questa va questa. Ignorant. Ignorant. Ancora la terza volta che ti killo. Basta. Ok. Mmmh. Ah Lunar Blossom. La mia quest. La mia ennesima quest. Insettoidi. Meglio. Dai dobbiamo trovare quel tipo la. Così almeno mi danno il pezzo. Il pezzo. E io posso andare in istantius. Oh porco dios che padre. Qui. Vai. no, arriva la tribù di deficienti ancora dietro ho scappato di casa eh, allora, però se non ti svegli dai, su, datti una mossa give yourself a move ah, i blossom, i blossom don't forget your blossom don't forget your blossoms questo creepy guy is full of creepy guys e allora io li stanghetto aoeggiando, ragazzo mio siete individui scomodi vi trovo degli individui scomodi, ragazzi o meglio, ex ragazzi siete tutto ossa oramai siete degli esseri inutili facezienti ragazzo si va adesso ah, forse qui trovo quel dirpo là esatto, esatto, eccolo qua vai sì, a te ti cartello porco due non è grosso ha diventato il grosso mi sta ammazzando sto imbecille un'orca puttana vaffanculo va cioè, ma come si fa a cominciare un un personaggio di quest con un quinto tornare là minchia di grillo sto sbagliando strada sicuramente eccomi qui di fronte a un bel dirupo minchia minchia ma perché cominciare così? perché cominciare così? fanculo va idiota you idiot potrei terminare la quest qui ma sono stecchito morto che deficiente I am stecched morto I am stecched dead e qui c'è anche uno che mi darebbe un pezzo elite bravo bravo di nuovo in un punto morto a questo punto ritorno al graveyard mi sono rotto le palle resuscito dieci minuti come un idiota a fare un cazzo però me la vado alla garage ok adesso andiamo a torninare la quest torniniamola quest torniniamola quest che cazzo lunar blossom ok may your blades never die ma non lo so cazzo devo prendere questo devo prendere quello io non è che ci arrivo di dentro sì pronto pronto mi senti sì ah sì continuano continuano a esserci tutta perché la gente va dentro guarda ma ma non è che rimangono lì perché non faccio nulla di interessante ah sì ah sì ah sì ah sì sì dimmi dimmi sì sì io adesso sto collegato dimmi bene ok alle 10 mi trovo lì in stazione va bene ok perfetto ma sì tranquillo io sono qui un bel po' e quindi e poi dopo ti ripeto li 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 piazzo sul sul mio canale youtube sono dentro tutti solo che questo è in streaming vabbè ciao 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 ma dove cazzo sto andando dove sto andando dai ma dove che stai andando? naturalmente, ecco, devi stare attento perché giustamente sei fresco di che ottusangolo che ottusangolo che sei, che ottusangolo minchia, minchia, minchia e adesso? meno male che è vicino devi aspettare i dieci minuti perché sennò qua ti stangano porca miseria, volevo far quello là per andare in istanza addio, una madonna va bene stai attento che qui sei in mezzo alla radura piena di insidie piena zeppa di insidie almeno l'elementale mi buffo mi curo mi curo minchia, minchia, minchia minchia, 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 minchia mi curo